benvenuti aprile san michele alessandri signori a questo punto cosa rimane da dire allora Andrea che vi spiega abbiamo tre ricette Andrea oggi facciamo i maccheroni alla Grecia e questo 78 eccoci siete ancora con noi? eccoci siamo arrivati al momento ma le ricette quello che ci hanno portato Francesco e Andrea che mi dirà adesso mio questa è la la montagna 23 aprile alessandri a san michele signori a questo punto le ricette che ci hanno portato il nostro Francesco e Andrea e il primo signore e signori mio compagno che non hai capace? amatriciana a Grecia coi maccheroni buona buona a questa da gustare e poi dentro da lui che è dalla sua parte poi amiamo come secondo cosa abbiamo da la parvigiana parvigiana al cartoccio incartata incartata parvigiana incartata si può anche fare anche questo signori vai e cosa abbiamo come dolce? abbiamo qualche bile down down dove sono? no donna non ti lasciamo il cesso che dobbiamo aprire ancora riempire non è ancora tutta di riempire le gretieti sono rascoste da qualche parte a sua presa apriutati signori aàa gnaw gnaw dai come sei adesso veramente dai Davide, già vai, dai, 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 dai. Discapareciando, che va in tiro, che mangia tutto il possibile, che non finisce mai.